In particolare, leggendo sempre il tuo libro, che mi ha oggettivamente lasciato perplessa e mi ha effettivamente posto un interrogativo. È possibile che l'assassino conoscesse Pia o i due ragazzi? C'è la testimonianza in un bar a cui probabilmente non è stata data particolare importanza, ma risulta abbastanza significativa. No, è possibile questo senz'altro. La testimonianza è di due gestori di un bar, che si chiamano Bardazzi, padre e figlio, che dichiarano il giorno dopo, due giorni dopo, di aver visto che la coppia dei ragazzi, Pia e Claudio, che riconoscivano sul giornale, e che aveva in effetti una panda celestina, si era fermata da loro in una certa ora a fare una merenda, un piccolo pasto, e che un personaggio si era avvicinato e aveva chiesto da bere e li guardava insistentemente. Questo personaggio era un tipo con dei tratti somatici un pochino particolari, che infatti fu fatto un identikit in base alle loro testimonianze. Questa persona era una persona grossa, distinta, vestita elegante, giacca, camicia, insomma, completo, di luglio mi sembra fosse stato, di farcia piena, rossiccio, di anche un po' di carne, e a quelli rasati. E questo... Stempiato? Sì, sì, cioè, aveva quella zero, insomma, cioè, ne avete corti, cortissimi. E non sta bene che aveva anche un anello al dito, un bel anello. Questo entrò subito dopo, è già da che entrò la coppia, che vende per fare merenda, e si misero, la coppia di Arontini e... Stefano Arci. Stefano Arci si misero a sede a tavolino. Lui invece prese una viva e banco, e andò a berla fuori, in una... in tavolino. E aveva lo sguardo puntato fisso su questa coppia. Io ci fece caso perché, proprio quella domenica, era la prima domenica, che avevo l'obbligo del legislatore di cassa, se no, di... E allora, guardare questa persona cosa volesse guardare, ecco. E poi, quando i ragazzi si alzarono, lui aveva sempre la pira intatta, piena, il calice di vita, beve tutto, quasi tutto consorzo, e riportò il calice sui bar, ai banco di bar. E si incrociarono, cioè, loro uscivano e lui rientrava. E questo gli ha detto una guardata. Ha detto, guarda, il potente non va bene questo. Poi dopo loro, e uscirono. Uscendo, loro avevano la macchina, avevano una panda bianca, proprio parcheggiata davanti. Però lui, non so come fosse arrivato, perché in quel momento le siti non c'erano, insomma, mezzi pubblici, e non passavano a quell'ora. E la macchina lì davanti non c'era via. Sul verbale dice celestina, eh? Sul verbale dice una panda celestina. Eh sì, una panda chiara, panda chiara. e presumibilmente la macchina, lui l'aveva dietro, nella traversa dietro. Però poi non potete vedere, perché in quel momento, quando mi inconcieva arrivare la gente, però non aveva parcheggiato. Non avevo parcheggiato davanti. Comunque avevo parcheggiato quei ragazzi. Pur essendoci posto di parcheggio, non aveva parcheggiato davanti. Ho lavorato nell'84 alla Nuova Spiaggia, di Vini Roberto, e in quel frangente ho conosciuto la Pia, la ragazza che ha ucciso il mostro. E mi ricordo che il pomeriggio che doveva lavorarlo la Pia, invece lo prese libero, perché disse che doveva andare con il suo ragazzo a mangiare fuori. Io in genere entravo, lei faceva fino alle 10 massimo, perché le chiusure e chiusure non le ha mai fatte. E io entravo, invece di entrare alle 10, l'ho sostituita e sono entrata all'otto. Lei è andata via di corsa, anzi io l'ho richiamata, gli ho detto Pia ma come, non mi saluti nemmeno. E lei con il suo carattere così solare, così mi è corsa incontro, mi ha abbracciato e mi ha baciato. E questa è stata l'ultima volta che l'ho vista. Poi la mattina andando a lavorare, io stavo a Dio a mano, all'epoca ho saputo che il mostro l'aveva ammazzata. Non ci volevo credere, però è stato così. Infatti ce n'erano tanti tipi strani che venivano e magari facevano delle affermazioni a noi ragazze, però a me mi rimase impresso un sabato, una domenica, non ricordo bene, un tipo rossiccio, alto, robusto, che non molestava. C'era una ragazzina e non conosco nemmeno il nome e non conosco nemmeno la sua provenienza e era lì, io gli avevo dato un gelato e lui la importunava un po', gli diceva sei accampata ancora lassù? Che sapeva benissimo dove era. E lei gli diceva sì, stasera vengo a trovarti. No, io stasera non ci sono. È rimasta talmente turbata che è andata via di corsa e non ha preso nemmeno il resto. E io questa cosa qui l'ho notata, cioè mi ha fatto un po', era prima, prima che succedesse il fatto. E i carabinieri mi chiamarono, mi chiamarono a testimoniare, mi fecero diverse domande e mi fecero anche domande se avevo visto qualcuno sospettoso. Mi ricordo di questo signore ma che non conoscevo, mi ricordo che aveva una corporatura robusta, capelli lisci, con il ciuffo da una parte, molto stempiato, ma non mi ricordo di altro, non lo conoscevo. È tutto qui che ho visto io. Era della zona come, non era normale, un dialetto era toscano. mi hanno fatto vedere le dentichitte, ma non ho riconosciuto, somigliante era a quella personale, ma non ho potuto dire chi era. ma infatti io l'avevo un po' chiesto, l'avevo un po' chiesto di, ma che lo conosce, perché mi dava un po' ma dice, deve essere delle zone di scarperia, però, però non è stato approfondito questa cosa, capito, nessuno, magari, qualcuno mi diceva, ma t'ha notato lui, perché? cioè, non c'era una, un'incalanatura, capito, era tutto così, era tutto così. L'orario era tra le 4 e le 5, vero o più o meno? Ora, di preciso, passavo tanto tempo. Sul verbale dice 4 e 40, però no, lei stava lì, proprio a guardare l'orologio, oppure? no, non ne stavo a guardare l'orologio, cioè, prossimo. Potrò non essere 4 e 4, come le 5 e meno un quarto, non è che avevo l'orologio umano, ecco. Quindi non c'è un orario preciso. Presumamente, ecco, ora, dunque, ecco, questo, questo personaggio, perché diventa interessante? Oltre per il suo avvistamento, quello di altri personaggi, di altri testimoni, che vedono un tipo simile, che lo descrivono rossiccio, alto, massiccio, al bar della Via Rottini. E questo lo rilasciarono dei giorni dopo, quindi due giorni dopo l'omicidio. lei che fece il giorno dopo, quando seppe le, come lo seppe? Io lo seppi la mattina, la mattina quando seppi la caduzzo, e allora era ancora vivo in Drabbo, e l'aveva vista anche in Drabbo, e mi sembra opportuno andare a ciò che avevo visto, in Casemba. E faceste un identikit, c'era sua sorella, suo padre? Sì, mi fece un identikit hit, a secondo qualche discrezzo, ma l'avevo riscritto, ecco. E quello che abbiamo visto poi dal processo, ma questo identikit lo fece una persona specializzata, o un carabiniere lì, che era... non mi ricordo, ma penso una persona specializzata, mi sembra, non so. Ha stempiato, robusto, alto, il viso pieno, però mai... A quel disegno? A quel disegno, sì, si somigliava, però non ho mai saputo, né come si chiamasse, né come dove stava, sicuramente, era toscano, parlava come noi, non è che... però... Non si è più rivisto? Dopo... Dopo i fatti, no, io non l'ho più rivisto. Quindi strano, perché voi non l'avete mai visto prima? Sì, infatti io poi, allora, rimasi un po' perplessa, perché anche una seconda volta, e lo vidi, venne lì alla macchina di caffè, mi chiamava per nome, che io non lo conoscevo, non capivo come mai, mi dice, Manuela, ma te va a ballare, e io, infastidita, gli dicevo no. Non capivo come mai, lui mi chiamava per nome, ecco, questo sì, però, poi dopo, dopo quelle due volte, io non l'ho visto più. Però lui mi ha colpito, proprio per questi due fatti, che non conoscesse il mio nome, che a quella ragazzina, gli fosse, rimasto un pochino, era rimasta un po' soggezionata, questa ragazza. disegno un po', ha visto, un uomo robusto, un uomo alto, un metro e ottanta, e rossiccio, in faccia, di capelli. Poi, a livello di ricordi, cioè, lei poi fece, praticamente, il colonnello Sticchi, che lo portarono al funerale? Sì, al funerale, mi ricordo, in piazza Alvicchio, eravamo sopra, in una trazza, non so, special saire, sopra. E' una persona, che lei non aveva mai visto? Prima d'allora mai vista, e dopo, mai rivisto. Quindi? Sono abbastanza, mai vista prima d'allora. E' abbastanza, ci sono vista lei? Ecco, perché ci fece, perché non avevo mai visto, prima d'allora. Certo. E poi, da allora, non più rivisto. Certo. E lei, quindi, la foto dei ragazzi sul giornale? Foto dei ragazzi morti sul giornale, e allora, dato che, il giorno avanti, avevo visto, questo tizio, a me, dopo, sembrava un po', che io sospettavo, questo tizio, perché il modo, me l'aveva guardato, il modo, come si comportava, al tavolino, perché, mentre li guardava, lui aveva, mi ricordo, questo mi ricordo, la mano sotto il mento, la mano sotto il mento, e si muoveva la bocca, con quegli occhi guardava, visto questa bocca, quindi, io ho un atteggiamento, questo fatto, mi ricordo, lo sai bene, lo ricollegai, dopo, il giorno dopo, si va a questo tizio, c'è, ma lei conosceva, lontini e stefanacci, lontini e stefanacci, c'erano state altre volte, avevano sempre fatto, merenda, eh sì, erano venute altre volte, o merenda, insomma, ma c'erano, se erano fermati, cioè, uno di loro, di loro, aveva mangiato, le cozze, maniate, che avevo, un banco di gastronomia, insomma, presso della roba, mi ricordo, che avevo preso, anche il suo piazzo, di cozze, e fece l'autopsia, il veneno, sono ragazzi, fece l'autopsia, e, fu creduta, la cosa, perché, ciò che avevo detto, io avevo mangiato, l'hanno ritrovato, e questo, è cosa nota già dall'epoca, io ho trovato anche altri verbali, sempre dei primi di agosto, quindi qualche giorno dopo, dove, ehm, altre persone, quindi, parliamo di due ragazze, una delle quali, eh, lavorava proprio al bar, era collega di Pia, e, vedono un personaggio simile, e di un altro, un'altra persona ancora, che vede sempre il personaggio, descrivendolo sempre, con quei tratti somatrici, con quel colore dei capelli, di mattina, che guardava, qui davanti c'è un fiume, no? Qui, guardava delle donne fare il bagno, qui al fiume, quindi, la presenza di questo personaggio, nei giorni precedenti, quindi nel luglio 84, al delitto è una certezza quasi acclarata, ecco, un dato acclarato, e, comunque, non è stato, diciamo, trovato, nessuno, del luogo che rispondesse a queste caratteristiche, ecco, questa è una particolarità, che io ritengo sia di un certo significato, infatti ho deciso di inserire l'identikit e i verbali nel libro, perché mi sembra l'unica testimonianza verosimile a un personaggio che poteva essere il mostro di Firenze. L'anno successivo, a Scopiti, quindi nel delitto del 1985, troviamo, ritroviamo altri due identikit, con altre due testimonianze, sempre nei giorni del delitto di settembre, quindi abbiamo un testimone, Cicolini, Luciano, che descrive una persona robusta, alta, 1,75, 1,80, anche di più, prestante, con i capelli rasati, rossiccio in volto, e un'altra, un'altra testimone Sossi, questi sono testimoni non entrati al processo, in questi identikit, ma vengono fatti nell'immediatezza dei fatti, quindi molto più attendibili, rispetto a poi, quelli che verranno successivamente proposti, nel processo Pacciani. grazie a tutti i nostri spettatori, a me mi viene sempre in mente questo legame con il Mugello, quindi il discorso del Mugello è sempre stato secondo me, perché il Mugello è una località che è distaccata da quella fiorentina, quindi geograficamente, penso che lui abbia avuto una qualche situazione lì, magari una seconda casa, un lavoro. Ma per quale motivo logisticamente lo posizioni? Perché da Firenze, o dai dintorni di Firenze, insomma, dove siamo adesso, non vai in Mugello a cercare coppie, perché sono 60 chilometri, è una strada comunque, è una strada di montagna, sono, insomma, cioè, devi avere dei motivi particolari, è una località che non viene, non viene molto frequentata dai fiorentini, se non per vacanza o comunque, no? Quindi, se vai lì a cercare le coppie, e non vai, ti posso dire, piuttosto, nella parte di Pontassieve, Bagnaripoli, o nella Val di Pesa, cioè, perché andare fino lì? Perché andare fino lì ad imbucare una lettera, ad esempio? Questo è un richiamo, voluto? Eh, credo di sì. Cioè, è un moto che vuol farsi riconoscere, che vuol farsi identificare, che lancia dei segnali. Che lancia dei messaggi, credo di sì, perché comunque, delle provocazioni, sì, un prova a prenderli. Da San Casciano, dove è avvenuto l'ultimo delitto, lui, o nell'immediato, o dopo, o subito dopo, si fa tutta quella strada, solo per imbucare una lettera. Allora, l'ultimo delitto, è un po' di sì, e un po' di sì, e un po' di sì, e un po' di sì,